Intelligence e scienze umane è il libro di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria. Il lavoro nasce da un'esperienza che parte da un bisogno di trasparenza più che da una necessità di segretezza. Nel corso di una piacevole chiacchierata con l'autore a Catanzaro, Caligiuri ha sottolineato che Intelligence non è una brutta parola, ma un metodo di trattazione delle informazioni, che per Caligiuri deve diventare a pieno diritto materia di studio nelle università, come recita il sottotitolo del suo libro. Quindi a cosa ci riferiamo quando parliamo di Intelligence? Parliamo di uno strumento fondamentale per assicurare il benessere e la sicurezza per i cittadini di ogni paese. I servizi segreti sono stati utilizzati in ogni tempo e in ogni latitudine perché è uno strumento del quale non si può fare o meno. È anche uno strumento che serve a tutti i cittadini per districarsi nell'epoca della globalizzazione, per sopravvivere alle informazioni eccessive, serve alle imprese per essere competitive, serve agli stati per svolgere il proprio ruolo e difendersi dal terrorismo e dalla criminalità organizzata. È appunto per questo l'Intelligence è lo strumento decisivo per essere contemporanei. Da Catanzaro per la C News 24.